Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Enzo Paolo Turchi, coreografo all'interno della casa del grande fratello, sta attraversando un momento difficile a causa della mancanza di sua figlia Maria. Negli ultimi giorni ha manifestato il desiderio di abbandonare il reality. Tuttavia sua moglie Carmen Russo è entrata nel loft per cercare di farlo cambiare idea e infondergli serenità. L'ingresso della showgirl non è stato accolto positivamente da Enzo Paolo, che ha confessato di temere di non essere più accettato da lei. Le sue parole hanno fatto pensare al pubblico che forse c'era già tensione nella coppia prima del reality, quando si vociferava di una crisi coniugale. Il conduttore ha chiesto a Enzo Paolo se temesse un tradimento da parte di Carmen, ma la risposta è stata un netto no. Tuttavia, la domanda ha fatto emergere un ricordo nel pubblico riguardo a un gossip su una presunta relazione tra Carmen e Stefano De Martino. Nonostante Enzo Paolo abbia chiarito di non credere a queste voci, la domanda di Alfonso Signorini ha riportato alla luce vecchie chiacchiere. Carmen aveva smentito categoricamente qualsiasi coinvolgimento con Stefano in passato. La domanda del conduttore è stata solo una conseguenza della crisi di cui Enzo Paolo ha parlato, senza insinuare nulla. In conclusione, la presunta relazione tra Carmen Russo e Stefano De Martino è solo frutto di gossip senza alcuna prova concreta. La presenza di Carmen nella casa del Grande Fratello è solo per sostenere Enzo Paolo e non c'è alcun motivo per dubitare della loro relazione.